Nel corso di una conferenza stampa nella Fonderia del Chiaro a Pietrasanta, il presidente del Centro Giovani Calciatori, Alessandro Palagi, ha annunciato alcune ulteriori novità nella manifestazione che prenderà il via a Viareggio dal 20 marzo al 3 aprile, edizione numero 73 per il maschile, mentre per il femminile quarta edizione si esorgerà dal 21 marzo al 27 marzo. Saranno 32 presumibilmente le squadre con una nutrita partecipazione di formazioni africane, molte straniere per il maschile, e 8 saranno le formazioni del femminile. In attesa del ritorno della sua casa allo stadio dei Pini, Torquato Bresciani, i cui lavori inizieranno nel 2023 come ha annunciato l'assessore allo sport Rodolfo Salemi, il torneo di Viareggio tornerà ma alla Ferracci di Torre del Lago per la partita inaugurale, un quarto di finale, semifinale, è da verificare se ci saranno le condizioni dal punto di vista della sicurezza per le finali. Sì, il nostro obiettivo come consiglio è quello di disputare più partite possibili nella nostra città, dove nasce il torneo di Viareggio, con la speranza, subito finito il torneo, di vedere iniziare i lavori allo stadio dei Pini, stadio conosciuto nel mondo, ormai da 73 anni, grazie al torneo del centro Giovani Calciatori. Ed è con grande gioia che questa mattina insieme al Presidente Palaccio abbiamo annunciato che la partita inaugurale si svolgerà lì, l'augurio è che più partite possibili si possano svolgere a Viareggio, anche le finali maschile e femminili. Faremo un lavoro simile anche su altri impianti, con l'oneggio per una tribuna per il campo Luciano Martini e nelle prossime ore parleremo con l'amministratore delegato del Marco Polo Sport Center per far sì che delle partite si possano giocare anche lì. Grazie a tutti.